ogni quattro livelli di classe si guadagna un più due a una caratteristica questo l'abbiamo visto quando abbiamo parlato di classi questo più due può essere anche distribuito tra due caratteristiche quindi più uno e più uno ma se un personaggio non volesse beneficiare di questo privilegio che quindi viene ogni quattro livelli potrebbe decidere di scambiarlo con un talento i talenti sono delle abilità alcuni talenti hanno anche più di un'abilità alcuni talenti possono anche semplicemente essere delle competenze però i talenti hanno per la maggior parte dei prerequisiti questi prerequisiti che per dirne uno potrebbe essere tipo forza 13 vanno sempre rispettati e se qualche condizione ad esempio ci abbassa la forza e non è più 13 quel talento non possiamo più usarlo finché la forza non sarà ripristinata i talenti sono dei più disparati quindi sono talenti al di fuori del combattimento talenti che ci aiutano durante il combattimento abilità che invece ci danno delle competenze ad esempio nelle armature pesanti per dire se abbiamo solo la competenza data dalla classe nelle armature medie i talenti vanno usati con criterio e vanno anche scelti con criterio devono essere proprio utili per scambiare un più due a una caratteristica perché ricordiamoci che un incantatore aumenta la cd degli incantesimi con la sua caratteristica e quindi un più uno potrebbe sempre fare comodo